Italia Viva ha da subito manifestato l'interesse grande, importante, predominante sulla figura del candidato presidente Luciano D'Amico, l'abbiamo subito appoggiato e con le altre forze politiche cosiddette un po' più piccole, minoritarie, come il Partito Socialista Italiano più Europa saremo una lista di riformisti per l'Abruzzo, inseriremo i nostri migliori candidati che abbiamo in provincia di Teramo, avendo così la possibilità di essere eletti non sul fatto della conoscenza del nome ma su un programma che presenteremo al professor D'Amico perché questa volta, a differenza dalle altre volte, noi vorremmo essere decisivi anche sul fatto programmatico che è la parte più importante, non di chi viene eletto, perché si può anche non essere eletti ma che comunque il programma vada portato avanti. Siamo a Teramo e a Teramo qualche mese fa con le amministrative si è consumata una disconnessione con Azione adesso Italia Viva e Azione insieme per appoggiare Luciano D'Amico come se lo spiega questa scelta da parte dei colleghi di Azione e si è stupito? Azione è arrivata un po' in ritardo sulla scelta del candidato D'Amico noi ci auguriamo che questa situazione si possa recuperare da parte nostra abbiamo messo sempre la massima disponibilità, non ci siamo mai tirati indietro probabilmente però questa domanda la deve rivolgere all'Azione noi siamo convinti di poter fare una lista forte con le personalità di cui dicevo prima se azione, ma questo non dipende da me, dipenderà anche dal tavolo regionale e anche credo un po' dalla volontà del candidato presidente se si vuole raggiungere un obiettivo di essere una lista a 4 e non a 3 vedremo da farsi diciamo che manca ancora un po' di tempo per la chiusura delle liste quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare però altrimenti ognuno fa la sua strada grazie grazie grazie